L'inverno alle porte, il freddo atteso con più timore che mai, sta per diventare un incubo non solo per le temperature in sé, quanto per le modalità di difesa. L'aumento del gas spingerà ad un abbassamento generale dei caloriferi e ad un uso contenuto delle fonti di riscaldamento, ma ad essere coinvolti sono anche coloro che, oltre o al posto dei termosifoni, usano altri metodi come pellet e legna, il primo a costi di produzione elevati ed ha subito, al pari del resto, aumenti sul mercato. Opposto è il caso della legna, che nel processo lavorativo comporta spese minori, ma che è protagonista di altrettanti rincari, frutto di speculazioni. Il pellet, i cui prezzi sono schizzati a costi altissimi, da 5 euro a 13, se non 14, ma pensiamo anche a tutta una serie di effetti speculativi. Il pellet, non voglio dire giustificato, perché non è il termine corretto, ma comunque il pellet ha una produzione, una forma di trasformazione estremamente energivora, quindi pesa il costo dell'energia anche nella produzione di pellet, ma la legna. La legna, stiamo raccogliendo dati molto elevati, la raccolta della legna non ha costi energetici rilevanti, quindi quello che ci fa paura è invece l'effetto speculativo, purtroppo che si trascinano in momenti di crisi. Sulle tasche delle famiglie, però, gli aumenti di energia e del costo della vita non pesano solo per il 10%, come segnalato dall'Istat. Feder Consumatori Toscana indica il 15% e la stagione più rigida, se non ci saranno interventi, potrà solo far aumentare questo dato.